Cosa sta dicendo? Pace e bene figlioli, quanto sta accadendo nel vostro locale singolare? Di solito ci vogliono dai sei mesi ai due anni. Un bel via vai, una mezzapolitana, una scuola, si è sistemato bene. Ma che si fa così con gli amici? Cosa vi serve? Zucchero, tanto zucchero. Che c'è? Hai bisogno di tirarti sul morale? No, di tirare su mezza città. Quanto te ne serve? E' bello, eh? Purissimo. Non è un problema, no? Tu sei il migliore. Che fa? Non ci riconosci? Ne abbiamo fatti gli affari, abbardati a tutti. Tu tira fuori la corda. Eh, il mestiere è così. Una volta lì, una volta là. L'importante è non finire qua. Lo sai com'è fatto Paco? Non dice mai quanto sta via. Scusa, Amedeo, perché non riproviamo a farglia buttar via? Scusa, non mi sento bene. Vedi, sto tremando la febbre. Ecco, l'ha proprio buttata via. Sei troppo una stupida. Ti sei portata dietro il carabiniero. E sei fidanzata con Costante. E hai detto tu, ma, via, 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 via! Oh, 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 fermo, fermo! Signore! Sì, prosperi, prosperi. Portali in camera di sicurezza, subito. Anche lei. Signor Danesi, è qui, sì. Ah, grazie. Sono 46.500. Un attimo che prendi i soldi. E' preferibile vestire con la gonna, sai io ci tengo alla femminilità. Mi lasci, mi lasci, aiuto, 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 aiuto. Ehi, ehi, lasciala stare. E tu chi sei? Sono il tuo ragazzo. Ma poi vi siete ammantiti. E questa che roba è? Zucchero per i caffè? Ma io, è la prima volta che la vedo quella roba. Giudice, certo, mica a me. Allora mi scusi, uno che spazza, fa tre lavori contemporaneamente. L'avvocato c'è sempre una prima volta. Magari era stacco dai tre lavori e l'ha scelto un lavoro più redditizio e meno fatigoso. E' una donna in affari, una manager, sempre impegnata in mille impegni. Comunque è libera di decidere di non avere figli. Io sono libero di divorziare. Amore, sei bellissimo, arrollalo. Cosa cazzo vuoi? Cazzo vuoi? È chiuso. Vieni giù, vieni giù, stronzo. Scendi. Che fai? Che fai? Che fai? Ma adesso che cazzo io? No. Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Grazie